eccomi eccomi lo schiappo l'ha fatto di elemento fisico elemento energia non va affatto bravi bravi fisico va bene poi altro c'è altro c'è altro c'è questo qua è normale che non uso però comunque è bella diciamo ma stuola il marco ma che non è niente che usate alberto 30 106 io ho 60 quasi 100 io sono quasi 100 io sono sopra il 100 ah pure 122 vabbè intanto non ci gioco più a questo gioco adesso ci sta giocando io non ci gioco da un anno pure io che è un gioco buggato ma fatto meglio di Fortnite non dipende in che punto boh dal punto sì cioè secondo me dal punto di vista il gioco come è fatto è meglio Rainbow però vabbè anche questo per te allora più non lo pesa come vuole guarda pesa e questo è veramente l'arma più rara del gioco è un'arma guarda qua questa è un'arma di merda ma è la più rara del gioco raga ah ok sì ho capito raga ho una lingua che nessuno sa in tutta Italia fra mi dici che verrai espulso presto per inattività io oppure a me dai l'anno l'altro abbi date una cosa abbi date un muro allora fa una cosa allora io so parlare in pinjabi ci guarda in pinjabi frizzato che cazzo è fra che cazzo è fra ti dico una cosa alio 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 vi via ciao vai a scambiare con alto non faccio le domande no io non me le faccio di meno non faccio le domande io so che lingue di voi sicuramente eccola qua ti subito a morire controllo ad ecco quanto cazzo ce l'ho altro no vabbè no vabbè stavore si torna tutto è colpa di lei ma porca troia allora dovete dire maim cura caran no ganda ham dite questo ma anche no no non è mica cosa è risultosa è la favella come come vedi questo è la base che ho costruito nuovo perché disavva il mondo a me non me ne frega dai anto scambiando a giocare scrivete così scrivete così dite questa cosa dite questa cosa dite questa cosa dite questa cosa a me non mi interessa dire le cose sono tutte belle le parole che diciamo domanda a giocare con giuseppe da ieri scambio con questo veloce da che dovrebbe il quadro allora ti servono armi modate no batterie batterie batteria devi costruire una macchina si posso batterie so che due sacco ecco dopo le due sacche uno aspetta un attimo eh oppure devo fare uno stacche uno decidi vediamo quanti ecco me ne dai vabbè ma no ma io non scambio queste cose scambio armi prendi queste batterie no fravi sarò sono le batterie a me eh no e lo vai e scambio armi i materiali ma non le batterie vabbè no ma se tu mi le batterie ti do armi e c'ho 30 e che armi dai per un sacco di batterie uno stacco di batterie e un'arma c'ho 30 eeeh non esageriamo dai sarà il 22 dimmi un'arma che vuoi teacrafto vabbè che ne so che progetto c'hai no obliteratore rubacuoglia trinta il soldato colpo di istinto nocturno non ce l'hai la danese no sono povero attacco degli squali artiglio del drago arco tubo a vuoto deattivizzatore si ma parola gli archi no e la macchina di corna oppure che armi c'hai nell'inventare fai te un po' dai no ma con l'inventare sui te armi miti che non si possono mica droppare ho un liquido che fa una pistola no le fai vedere in mano e dici la potenza sono miti che non si possono droppare ah e di che armi c'è solo quello dell'inventare no c'erano altre del deposito però non c'ho sbatti di prenderle fai te fa bene qualche armi che ti ho detto c'è matt candy corn il mitraglione enorme che spara zucchero di atomizzatore Bobcat eh no c'è sì c'ho il deposito no ma io c'ho bisogno di costarmi cosa rubacuori obliteratore quale sarebbe rubacuori no vabbè ma che cazzo devo fare per non farmi spegno l'obliteratore è figo che devo fare per non farmi spegno oh bilda 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 un muro una scala ma che schifo sto gioco in merda oppure potrei costare colpi eppure muoverti in giro quale sarebbe rubacuori è la balestra rosa ah no poi obliteratore il soldato quale sarebbe il soldato è la fanteria ah no poi la trinta che dai la mitraglietta con la che è uscita in battle che spava tre colpi o quattro una roba così ah poi poi la colpo distinto non è abbastanza che si trovano che non so scafo se ce l'hai ehm no ma ho la mattina di corna eh ma sapone certo c'è un progetto full perk progetto full perk progetto full perk e la scafu si ok a quante è 130 130 vabbè vai vai ehm ma sperma che livello sei? non lo posso vedere che livello sei 122 sono androi qua dici che sono basso vai droppa ehm no prima droppa mi devi far messi droppi lei eh aspetta l'altro allora prima droppa droppa lei si vuole pure distruggere si ok facciamo una cosa un po' più no fra tre no e perchè vuoi dropparmi? no perchè tu puoi puoi mettere puoi modificare il mio muro che hai detto? puoi modificare il mio muro ma puoi modificare il mio muro che cazzo vuol dire? c'hai ripremuto cerchio me lo modifichi ma sto a due sto a due frate sto a due tu devi metterla in fondo come faccio ad arrivare la in fondo? mi spieghi? ma chi è l'altro azatto ragazzi? ehm sono accanto non so allora dammiati per me stiacci vedere ma chi è l'altro che entra? e chi sei tu? non lo so sono europa io dimmiata la guarda come non sai chi sei? fai finta apriamo tu ehm anche tu apri a questa parte ehm tu si come stia prendi qua? bella post ti è venuto sceglio? fai così? e come faccio a prendere la mia arma? mi ha fatto ma frate ma fa il seno vado da vado da veloce oppure chiudi da te così io non c'ho né la mia né la tua ma veloce ma veloce ah ti vado no da due facciamo da due da due no 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 fra perché vuoi tu fare no senza permessi fa te metti tu che vuoi fare da permessi vabbè io voglio fare se facciamo così boh interesserebbe allora io non scambio se vuoi fare 130 107 se tu sei non mi ha dato normale non mi ha permesso che ma due perciò c'è vabbè 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 è tutto no un po troppo 100 si va bene troppa troppa né una non lo so cioè perché sinceramente io non gioco da un anno a sala dal mondo quindi neanche so più il valore dell'arme troppo anche una una batteria troppa 201 ho troppo non sono 200 ah ok vada di troppi ok e vabbè per cento di petrolide che mi darei il filo ok si muova 5 chi non è un po troppo vabbè ma siamo nel 130 io ho dato uno di batteria adesso hai capito oh un valore oh full pack fratele full pack fra 230 anche per una batteria ma lei sa che sei il tubo adesso si vai buono buonissimo che bene sono famoso siiii vabbè voglio regalare un'arma va bene va bene va bene no quella montata fuoco energia se volete sì perché poi ci credo vabbè fra non crederci cioè adesso hai guadagnato e cose sei su youtube antonio non si truffa antonio eppure eppure penso credibilità ma è un carico è un po' 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 ma questo ma questo è un livello è questo che c'è la città di modale ma chi è il livello 6 vabbè fra gg tu no non c'è qua è un po' fra fra saluta youtube e tu sei vabbè ciao dai quanti scritti già hai seguito qui ho un po' un po' il tro è un po' qui ho qui è un po' è un po' il